Ciao, sono Paolo di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo della legge italiana sui coltelli. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su web, sui social, su backpacko.it, su YouTube, su tutte le piattaforme, quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci al tema del giorno. Oggi parleremo quindi della legge italiana sui coltelli, soprattutto di come è fatta. Parleremo di questo misterioso e giustificato motivo che si legge sui social ogni tanto, nelle differenze che ci sono tra il porto e il trasporto di un coltello e parleremo anche di come comportarsi in caso di controllo e di chi ci giudica, di chi ci giudica le nostre azioni a secondo l'ordinamento italiano. Siccome questo è un argomento un po' delicato, e noi spesso trattiamo pure gli argomenti di primo soccorso, di sicurezza, che sono sempre cose abbastanza delicate, beh, è bene spiegarvi un po' come sono arrivato alle mie conclusioni, ma soprattutto avvertirvi che non sono un avvocato. Ok, ho una formazione economico-giuridica che mi aiuta un po' a muovermi all'interno delle cose che leggo, ma non sono un avvocato. Se volete un parere legale, beh, trovate uno davvero buono, uno che capisca qualcosa di coltelli, e allora potrete effettivamente chiedere anche a lui. Un'altra cosa da sapere quando si parla di leggi è che la legge cambia anche senza che cambino le leggi. Ok, sembra un indovinello, sarà più chiaro dopo. Quello che voglio davvero che abbiate presente è che registrando il podcast oggi io posso avvalermi di quello che si sa fino ad oggi di come si comporta la giurisdizione italiana in termini di coltelli, quindi le cose possono cambiare. Motivo per il quale ci sono dei video anche su YouTube, anche fatti da avvocati che non sono più attuali, perché magari si riferiscono a temi e a leggi che erano valide e giuste nel momento in cui hanno fatto questi video e poi nel tempo sono state riviste dagli organi competenti e ne parleremo a brevissimo. L'ultimo avvertimento è che parlerò della situazione italiana, parlerò delle leggi italiane, di quello che succede in Italia. E questo ovviamente non si applica a tutti i nostri trekking all'estero, dove le nostre avventure all'estero, le nostre spedizioni, le nostre mille cose che ci piace fare anche fuori dai confini nazionali, beh lì magari ci serve di portare un coltello, ci serve di usare un coltello, ma le leggi possono essere molto diverse. In alcuni paesi saranno più permissive dell'Italia e in altri paesi invece sono meno permissive dell'Italia. Quindi mi raccomando, se avete intenzione di affrontare un trekking, un'avventura all'estero e il coltello è chiaro che vi serve, beh cercate di informarvi bene su quale tipo di coltello potete portare e su come potete portarlo. Ed eccoci qui, iniziamo col dire da dove viene la grande domanda del supporto del coltello, perché le persone continuano a porsi questi dubbi sull'utilizzo sul porto dei coltelli, su quale portare e su come portarlo. Attenzione, mi raccomando, alle grandi fondi di saggezza del web, ai grandi commentoni, quelli scritti così, che scrivono quello che pensano di sapere e poi invece ci ritroviamo con un pugno di mosca in mano a non sapere se è giusto o non è giusto. E di sicuro, sarete d'accordo con me, non potrete portare davanti a un giudice un commento stampato su YouTube di qualcuno che vi aveva detto che quello andava bene oppure no. Ma soprattutto, gente, ricordatevi che il coltello è una dotazione importante di sicurezza. Quindi da una parte esistono le limitazioni di legge che vedremo adesso una per una, dall'altra è altrettanto stupido lasciare il coltello a casa per evitare guai con la legge. Evito guai con la legge e poi mi trovo con i guai della natura, della sicurezza, della sopravvivenza e ci rimetto magari le penne. Quindi quanto è stupido un atteggiamento così repressivo è così di terrorismo giudiziario. Se ti prendono, se ti trovano il coltello in dalle... Ah, calmi, vediamo adesso che succede. Vediamo di capire come è fatta la legge, perché è fatta in un certo modo e quali sono le condizioni per portare davvero un coltello con sé. La razio, la ragione di una legge che limita il porto dei coltelli è evidente un po' a tutti, ma non riguarda solo i coltelli, bensì riguarda tutti quegli oggetti pericolosi che possono causare danno agli altri. E c'è tutta una storia in Italia fatta anche di duelli e di contrasto a questa attività del duello, c'è tutta una storia di criminalità che ovviamente usa il coltello tra i tanti mezzi che ha per intimorire, per estorcere, per rapinare, per uccidere, per danneggiare le altre persone. E non ultimo, non ultimo, la ragione del terrorismo che si è visto sempre più spesso utilizzare coltelli negli attacchi terroristici che si sono verificati nelle città, in tutta Europa, dove queste persone hanno estratto dei coltelli e hanno iniziato a fare dei danni. Bene, è molto importante capire la razio quindi. La legge vuole evitare che ci sia in giro gente con dei coltelli perché di solito chi porta i coltelli in giro così lo fa per criminaleggiare. Questa è la razio che ci piaccia o no. E di fatto quando andiamo ad esaminare più nel dettaglio il coltello, la legge sul coltello, dov'è che andiamo a leggere le cose? in una raccolta di leggi che si chiama il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È una raccolta di leggi appunto e di regolamenti attuativi che ci va a spiegare un sacco di cose che riguardano la pubblica sicurezza tra cui anche il porto eventuale di oggetti atti ad offendere. Vediamo un attimo come si sistemano le cose. Mi sentirete nominare spesso dei numeri delle leggi o delle sentenze. È importante che io lo faccia altrimenti sembra che ho letto le storie sul web e ve le riporto. So che può sembrare noioso però in alcuni casi può essere anche interessante andare a riprendere tutta la sentenza o una raccolta di sentenze insieme alla legge a capire qual è il diritto che regola le cose che ci piacciono. Dai, vediamo un po' come vanno le cose in Italia. Il famoso TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato modificato molte volte perché è entrato in vigore nel 1931 quindi immaginate quante volte e per quali ragioni è stato necessario apportare delle modifiche. Ok, sono stati modificati molti articoli. Quello che riguarda i coltelli è stato un po' infelice perché ad un certo punto la legge era abbastanza chiara e diceva la legge 80 mi pare era l'articolo 80 del testo unico di pubblica sicurezza diceva qualcosa come che era sempre presunto un giustificato motivo cioè per il porto di un temperino di 4 cm. Questo rendeva le cose molto semplici e ha dato anche un po' la vita alla leggenda delle quattro dita quattro dita se la lama è di quattro dita eccetera queste leggi che riguardavano la lunghezza della lama del coltello permettevano di portare con sé un coltellino di utilità un temperino che con 4 cm di lama effettivamente rende davvero difficile di apportare danno ad un'altra persona. Di fatto i coltelli studiati ed utilizzati nella storia per apportare danno quelli coltelli utilizzati in guerra ad esempio i pugnali utilizzati in guerra sono tutt'altra foggia sono fatti in maniera molto diversa e questo è importante che venga capito perché a un certo punto invece la legge 110 del 75 interviene e elimina il requisito della lunghezza. Da quel momento in poi anche un coltello piccolo poteva essere considerato in grado di arrecare danno agli altri quindi non c'è più un parametro oggettivo che era una cosa abbastanza semplice che tutti noi stiamo cercando nelle discussioni sui forum nei flame nelle risposte degli youtuber esperti tutti cercano un motivo una ragione come faccio a portarmi il coltello. Ecco quando è intervenuto questo articolo in pratica è cambiato un po' tutto perché da quel momento in poi la lunghezza della lama non è un discrimen per giustificare il motivo per giustificare il porto di un coltello e quindi di base di base non si può avere niente addosso se non per un giustificato motivo quindi adesso bisogna fornire un giustificato motivo anche per la lama più piccola che potete invaginare. paradossalmente anche uno di quei mini coltellini da ciondolino con la lama da un centimetro purché affilato è dotato di punta deve avere un giustificato motivo per essere con voi però vediamoli questi giustificati motivi adesso vediamo come funziona. Il problema grande grandissimo della legge sui coltelli e questo succede anche con altri tipi di materie con altre materie in ambito di diritto è che il legislatore spesso non riesce ad essere molto preciso quando fa la legge non si riesce a dare dei parametri oggettivi che indichino chi sta nel giusto e chi sta nel torto questo sarebbe utile era utile 4 centimetri cazzo ho un coltellino piccolo 4 centimetri lo uso per utilità per aprire i pacchi no non è più così il problema di quando una legge non è così precisa è che bisogna poi applicarla ad ogni caso e nell'applicazione di ogni caso che si presenta davanti alle forze dell'ordine e dei giudici e dei vari gradi del processo di cui parleremo beh in quel caso bisogna che venga fatta una cosa chiamata interpretazione non è banale non è banale nel senso che prendo la legge mi rendo conto l'interpretazione è una materia del diritto molto molto importante e va fatta seguendo dei criteri tuttavia solo grazie all'interpretazione quella legge generale viene applicata al caso concreto ci siamo? quando una legge quindi lo ripeto quando una legge non è abbastanza precisa per spiegare la situazione da essere applicata al caso concreto allora c'è bisogno che qualcuno svolga un'interpretazione della legge e la applichi poi a fare questo è il giudice le leggi le fa il legislatore quindi non le fanno i giudici le leggi il giudice le deve applicare nel momento in cui la deve applicare deve per forza fare un'interpretazione in materia di coltelli questo siccome i giudici non sono dei super uomini che conoscono nel dettaglio tutto quello che fanno e beh purtroppo ha dato spesso sfoggio delle interpretazioni molto fantasiose della legge sui coltelli e ne vedremo qualche caso fra poco nello stesso tempo è importante considerare sempre alla base la razza della legge si vuole evitare che una persona giri con degli oggetti atti ad offendere sul suolo pubblico ma questo è molto importante questo è importante per tutti è importante per la nostra sicurezza ed è importante per capire che a volte alcuni oggetti vengono considerati atti ad offendere a seconda del contesto dove vengono poi rinvenuti vi faccio un esempio banale di qualcuno che è stato fermato durante le manifestazioni e gli è stato contestato il porto di un moschettone moschettone che è usato durante le manifestazioni come tirapugni quindi un oggetto di per sé molto semplice molto utile per applicare il zaino e le pavuce e tutto il resto viene contestato se ritrovato in una situazione dove può essere attuato ad offendere non vuol dire che sei nel torto ok non vuol dire niente di tutto questo semplicemente che la forza dell'ordine che ha rinvenuto quell'oggetto quel manico di scopa è successo è successo un manico di scopa che è un oggetto di per sé utile tutti i giorni se lo porto allo stadio se lo porto ad una manifestazione politica beh quel manico di scopa dovrò a un certo punto giustificarlo mi chiederanno che diavolo ci fai tu con il manico di scopa e questo ti può portare poi dei degli bici giudiziari perché dovrai spiegarlo e non ho parlato di coltelli cioè il coltello ok però finora manico di scopa il moschettone una catena per lo scooter una catena per lo scooter io posso tranquillamente portarla dove mi pare attaccata allo scooter per bloccare lo scooter ma immaginatemi a cercare di entrare in uno stadio con una catena ed ecco che è chiaro che l'intento di tutto il sistema è evitare le furbate che poi introducono in contesti pericolosi questi oggetti che hanno una valenza sicuramente doppia così come un coltello coltello di per sé un coltello da cucina perché cosa è fatto? ma è per tagliare le zucchine le verdure la carne cucinare essere lavato e riposto nel ceppo questa è la vita di un coltello da cucina tuttavia se mi presento allo stadio con un coltello da cucina è chiaro che dovrò spiegare qual è il motivo che mi ha portato ad avere quel coltello da cucina nello zaino ho voluto da subito parlare di questi oggetti un po' promiscui che quindi non sono stati studiati per offendere ma che si prestano particolarmente bene per l'offesa un classico martello da carpentiere un tubo del gas un crick della macchina sono tutti oggetti che non sono studiati per offendere una persona non sono studiati per fare un danno ma si prestano particolarmente bene neppure per quello ci sono poi una categoria di oggetti studiati appositamente per l'offesa alla persona per arrecare danni e li chiamiamo comunemente delle armi delle armi proprie un pugnale per esempio storicamente un pugnale che cosa è definito beh un pugnale che hanno usato gli arditi che hanno usato nelle guerre che sono state combattute su tutti i territori in tutto il mondo il pugnale come è fatto il pugnale è una barra di metallo che ha due parti taglienti e una punta in estate su un manico questa è la definizione della legge ok una baionetta è fatta per arrecare danno alle altre persone quindi è un'arma attenzione però perché io continuo a dire la legge dice ma non è proprio vero non è proprio corretto la legge dice solo che ci sono degli oggetti studiati per offendere la persona che noi questi li chiamiamo armi proprie e ci sono poi degli oggetti che possono essere anche utilizzati per offendere la persona e li chiamiamo armi improprie senza andare adesso a discutere il sesso degli angeli è stato necessario in Italia arrivare a delle definizioni cioè quant'è che uno sta portando un'arma con sé un'arma propria e quant'è che invece sta portando un oggetto che potrebbe anche essere utilizzato come arma impropria e c'è una bella differenza se io vado in giro con una katana ad una manifestazione o una spada o uno spadone medievale è chiaramente un'arma che è stata studiata per offendere le persone e lì sto portando un'arma con me non c'ho niente da giustificare cioè se ho un'arma addosso non lo posso giustificare avrei bisogno di una licenza di porto dell'arma specifica ma è tutto un altro discorso quindi non posso giustificare il porto dell'arma all'interno di alcune cose all'interno delle manifestazioni all'infuori dell'abitazione il porto dell'arma valutate bene non il trasporto la grande differenza tra un'arma propria e un'arma impropria è la destinazione d'uso per questo faremo anche molta attenzione quando compriamo un oggetto a come il produttore lo propone perché la destinazione d'uso spiega il perché avete con voi quell'oggetto se io mi trovo in campagna a tagliare le mie cose con una roncola non verrà mai nessuno a contestarmi che quella è un'arma è uno strumento fatto per il lavoro agricolo quindi la grande differenza che c'è da fare è quella tra uno strumento di lavoro che quindi viene studiato e realizzato per eseguire dei lavori un coltello da cucina un coltello da bushcraft un'ascia per la legna e uno strumento invece nato con l'intento di offendere un pugnale uno stiletto una baionetta questi sono gli esempi che fa la legge poi il problema è stato capire quali sono le caratteristiche di un pugnale ve le spiego tra un attimo ebbene sì perché è facile immaginare che ci sono dei pugnali fatti per alecare danno alle persone e ci si convince altrettanto facilmente che si possono distinguere dai coltelli non è proprio così ci è voluto tantissimo per arrivare ad una distinzione che ad oggi sembra abbastanza unanime tra coltello e pugnale cioè tra strumento di lavoro di utilità e di lavoro e arma propria questo ha portato grandi dibattiti grandi sentenze fantasiose poi ripensamenti ricorsi vediamo un attimo come è andata quali sono le caratteristiche oggettive che dobbiamo ricercare in uno strumento per distinguerlo da una pugnale beh vi dicevo questa cosa delle interpretazioni le interpretazioni seguono un po' mi verrebbe da dire la moda ma non è così le interpretazioni della legge quando sono seguite poi da tutto l'apparato e recepite da tutto l'apparato si chiamano interpretazioni maggioritari ok sono filoni maggioritari di quel tipo di interpretazione lì mentre ci sono anche interpretazioni minoritarie e quindi un giudice potrebbe svegliarsi un giorno e interpretare nuovamente diversamente la legge e sì perché quello che deve essere davvero chiaro è che la legge è e rimane vaga ok e quando una legge come questa sui coltelli va a toccare ambiti importanti perché la distinzione tra uscire di casa con uno strumento e uscire di casa con un'arma è fondamentale la pena viene quasi triplicata e quindi bisogna sempre discriminare molto attentamente se il soggetto è reo di portare un'arma fuori dall'abitazione quindi porto abusivo di arma oppure ha un'arma impropria e magari ha anche un giustificato motivo questo è fondamentale nei processi e nei procedimenti quindi bisogna che venga fatta un'interpretazione ora non è che tutti i giudici reinventano la ruota se c'è una dottrina che convince c'è il giudice una dottrina più diffusa questa viene chiamata dottrina dominante perché magari la corte di cassazione o altri giudici hanno sempre adottato hanno più spesso ultimamente adottato quel tipo di interpretazione della legge e il giudice che magari viene assegnato al nostro caso e magari riprenderà semplicemente quella dottrina ma non è obbligato a farlo e sì perché si può sempre reinterpretare la legge il giudice può reinterpretare da capo la legge e sviluppare quella che è una dottrina minoritaria anzi di solito ci sono proprio già dei partiti di interpretazione c'è chi interpreta una parte maggioritaria una dottrina dominante che interpreta la legge in un certo modo e poi una piccola parte di altri giudici che magari hanno un altro tipo di interpretazione e in tutto questo si può sempre svegliare un nuovo giudice un altro giudice e fa una nuova interpretazione della legge questo è come funziona questo bisogna saperlo anche se poi all'atto pratico la dottrina dominante si spera sia quella più seguita non è vero non ve lo posso assicurare non ve lo può assicurare nessuno chiunque vi dice la legge dice così la legge non dice niente in materia di Colteni non dice quasi niente ci ha messo nei guai la legge perché poi bisogna sempre andare a vedere come verrà interpretata però calmi però tranquilli ricordate la razio la razio della legge è evitare che delle teste di cazzo girino con i coltelli ok questo è fondamentalmente quello che dobbiamo tutti evitare ci sono stati dei casi emblematici in cui anche la signora con il temperino in borsa ha passato dei guai giudiziari però poi viene anche la soluzione eccetera quindi diamoci un attimo delle caratteristiche oggettive che sono state utilizzate nella dottrina dominante che vengono utilizzate nella dottrina dominante per separare gli strumenti da lavoro dalle armi proprie ecco alla fine della fiera sono emerse in più sentenze di alto livello queste caratteristiche il coltello per definirsi pugnale deve avere una punta accuminata e una lama doppio filo innestata su un manico tutto qua se uno strumento non ha queste caratteristiche non può essere chiamato pugnale e quindi non è un'arma e questa è la dottrina dominante attenzione sempre perché domani si sveglia qualcuno e prova a fare una nuova interpretazione ma di nuovo confidiamo pure nelle persone che ci sono attorno confidiamo pure nel sistema della giustizia e difendiamo i nostri diritti allora in Italia ci sono diversi gradi di giudizio tra poco li vediamo tutti sentirete spesso nominarmi delle sentenze della Cassazione perché la Cassazione essendo l'ultimo giudice valuta la legittimità di una sentenza e quindi va ad interpretare la legge è quella che fornisce un'interpretazione molto dettagliata si spera della legge ovviamente non è a prova di errore anche la Cassazione sono successe cose strane ad esempio nel 2013 nel 2013 la sentenza 29483 asseriva che un coltello dotato un coltello un qualsiasi coltello a serramanico quindi un chiudibile dotato di un blocco della lama diventava un pugnale e quindi un'arma propria fu ovviamente un abbaglio perché la Cassazione era di fronte ad un coltello ad un pugnale chiudibile che si apriva e il blocco della lama cosa faceva? trasformava questo oggetto in un pugnale vero e proprio quindi rimaneva la punta accuminata rimanevano il doppio filo e rimaneva anche il blocco della lama l'innesto del manico con la lama quindi le tre caratteristiche del pugnale questo ha portato a delle interpretazioni fantasiose e delle discussioni inutili sul web in cui si è cominciato a dire che tutti i coltelli dotati di blocco della lama erano considerati dei pugnali e la cosa è evidentemente assurda un coltello che apro un Opinel uno svizzero col blocco un qualsiasi extrema razio tu apri un coltello un Fox corre questo cosa diventa un pugnale? no perché gli manca il doppio filo e quindi non è considerabile un pugnale però questo ha fatto discutere tanto il blocco della lama che invece è uno strumento di sicurezza per noi utilizzatori del coltello è presente nei coltelli agricoli da tantissimo tempo ed è presente in molti coltelli d'avventura di escursionismo eccetera come sicurezza per noi non lo trasforma in un pugnale assolutamente però la sentenza è stata quella e ha causato questo scompiglio per fortuna sentenze di questo tipo non vengono poi riprese nell'interpretazione della legge perché non siamo circondati da ignoranti e scemi eccetera gente che comunque si impegna a fare il suo lavoro anche non conoscendo tutti i dettagli quindi si va un po' a logica se io ho un coltello in casa un coltello semplice un coltello da cucina un coltello per tagliare la bistecca al ristorante non ho bisogno di una licenza per utilizzarlo me lo danno sto lì mangio lo rimetto a posto lo portano via e lo lavano questo è perché è un coltello non è un pugnale non si sognerebbe mai nessuno in un ristorante di darti un pugnale per mangiare sarebbe un problema e quindi un coltello che si apre non diventa un pugnale per magia è un coltello che si apre diventa un coltello chiudibile diventa un coltello magari simile all'ama fissa pensiamo a un rao che si blocca con una seconda chiusura ma sempre un coltello rimane sempre uno strumento di lavoro non c'è nulla a che vedere con un'arma zero a che vedere con un'arma altri temi che sono stati trattati di caratteristiche costruttive dei coltelli che hanno un po' contaminato questa definizione tra coltello e pugnale sono quelli dell'insidiosità e sì perché ricordatevi sempre la razio la legge vuole evitare che si portino dei coltelli per arrecare danno quindi uno degli aspetti che si cerca di limitare parecchio è l'insidiosità che cos'è l'insidiosità è quella particolare forma costruttiva che ci permette di nascondere un coltello fino a sfoderarlo rapidamente ed utilizzarlo per arrecare danno nell'atto criminale è chiaro che questo è un vantaggio ma nell'atto invece strumentale nell'atto lavorativo non lo è e di fatto i coltelli a gravità avete presente quelli che hanno la lama nel manico e che esce con un movimento a frusta del polso ecco quei coltelli a gravità che si azionano con l'apertura del polso difficilmente possono essere fatti passare per strumento da lavoro anche se non hanno il doppio filo potrebbero causare dei guai perché la struttura del coltello non consente di farci lavori e quindi lo rende particolarmente utile invece ad offendere un ipotetico avversario questo è buono saperlo per cultura perché adesso andiamo a parlare dell'apertura automatica dei coltelli la storia dell'apertura automatica che classifica il coltello come arma propria ha una storia vecchia si parla di una sentenza della Cassazione del 69 ora non l'ho riportata qui l'ho dimenticato comunque se la cercate la trovate cosa diceva diceva in pratica che il coltello a molletta la molletta il classico coltello italiano da duello la molletta cioè il coltello a scatto una volta aperta assumeva le caratteristiche di un pugnale pertanto deve essere considerato sempre un'arma ai fini del famoso articolo 699 del codice penale che è quello che fa che parla del porto abusivo di arma ecco attenzione il giudice non era completamente intorto ma è stata scritta male la sentenza e ha sviluppato questa cosa qui è vero che un coltello che si apre se è un pugnale che si apre rimane poi un pugnale se io prendo un serramanico un chiudibile lo apro e quando lo apro ho a disposizione una lama a doppio filo e la punta è chiaro che mi trovo di fronte ad un pugnale ad un'arma propria allora scrivendo questa sentenza un po' generica parlando di molletta e parlando di coltello ad apertura a scatto è venuta fuori questa interpretazione per molto tempo adottata dalla dottrina dominante che era se un coltello è a scatto è un'arma anzi ancora oggi in molti credono che questa cosa sia vera ed è il motivo per cui io non promuovo troppo il porto dei coltelli a scatto perché è più facile incorrere in dei guai giudiziari proprio perché è molto sedimentata questa credenza per cui il coltello a scatto è un'arma anche se non assume le caratteristiche di un pugnale io c'ho un coltello che ha il filo ma facciamo un esempio banalissimo e togliamo pure la punta c'ho un bel coltello per il burro che però è a scatto secondo quella sentenza lì sarebbe diventato un'arma sarebbe stato classificato come arma era ovviamente un abbaglio della Cassazione finalmente nel 2019 dal 69 al 2019 quindi 60 anni dopo arriva la sentenza 8032 in cui viene di nuovo ribadito che il coltello diventa un pugnale solo se è presente il doppio filo della punta e che altre caratteristiche costruttive quali il blocco lama la fattezza del manico chiudibile fisso la lunghezza non ne fanno un'arma questo è davvero fondamentale perché finalmente ci libera anche se non culturalmente dal preoccuparci delle aperture automatiche purtroppo le aperture automatiche vengono di fatto ancora portate all'attenzione portano un sacco di guai in effetti anche alla dogana poi pensano che siano delle armi eccetera eccetera quindi il consiglio prudenziale è ancora quello di evitare le aperture automatiche o di trattarle come delle armi quindi andare in armeria acquistarlo denunciarlo e tenerlo a casa ok ci fu una la sentenza di cui parlavo del 2019 riguardava un ragazzo di Catania che in effetti fu fermato con un coltello a scatto e il problema ovviamente adesso era giustificare il motivo del porto di un coltello una cosa è giustificare il motivo del porto di un coltello un'altra è avere un'arma e quindi nessuna giustificazione per il porto di un'arma ecco la sentenza ribadiva appunto che i discrimen cioè le caratteristiche fondamentali del coltello per essere identificato come pugnale sono proprio la presenza della punta e della lama a doppio filo e finora sembrerebbe che la legge ci ha visto bene no finora sembrerebbe che tuttavia possiamo farcene una ragione essendo il pugnale un qualcosa usato in guerra era per forza studiato per fare male agli altri mentre il coltello essendo qualcosa che usiamo anche a tavola e io a tavola non faccio male a nessuno se non a me quando mangio troppo e allora si può utilizzare attenzione però che ci sono altre novità ci sono altre sviste avete presente i coltelli a farfalla i balisong ok il balisong è considerato adesso dalla dottrina dominante un'arma non sono proprio sicuro che si tratti di un'interpretazione dominante però c'è un problema con il balisong che quando vai a leggere la definizione di balisong un po' su tutte le fonti vai a leggere che è un'arma delle arti marziali filippine quindi è molto difficile spiegare perché uno adopera un'arma delle arti marziali filippine perché la porta aggiungiamo poi il fatto che ad esempio la sentenza 20 705 del 2014 parlava di un si occupava del caso di una persona che già portava una pistola con sé quindi situazioni ecco pure questo ogni volta che leggiamo le sentenze sembra sempre che potrebbe capitare pure a noi ma spesso se le leggete a fondo notate che fanno parte di un ambiente abbastanza diverso che viene portato all'attenzione del giudice il caso del ritrovamento di un coltello nell'auto del tizio che spacciava la droga e che la sua giustificazione è che ci deve tagliare la droga eccetera ci arriveremo ecco però il caso del balisong è interessante perché quel tipo di coltelli benché le nuove sentenze della cassazione spiegano che le sentenze più recenti spiegano che il coltello non è considerato un pugnale se non è presente la punta e il doppio filo ecco il balisong è una di quelle zone pericolose un po' come il coltello automatico è un'altra cosa che io sconsiglio un pochetto no proprio perché favorisce l'idea di uno strumento che è stato progettato per offendere e purtroppo è così i balisong sono attualmente in libera vendita anche se una sentenza ha detto che sono delle armi non è vero che sono delle armi l'ha detto in una sentenza in un caso specifico non fa legge è il legislatore che fa la legge la cassazione ha semplicemente attribuito a quell'imputato anche il porto abusivo di arma bianca perché ha detto che per lei il balisong è un'arma non significa che altri giudici e altre forze delle ordine e altri gradi di giudizio verranno a dirci la stessa cosa però se possiamo evitare questi dibattiti costosissimi da fare in un tribunale allora sarà il caso magari di pensarci un po' prima ok quindi ci siamo abbiamo capito qual è un po' la struttura della legge c'è un vecchio testo unico di legge di pubblica sicurezza aggiornato continuamente aggiornato negli anni e si è arrivati a non avere una vera e propria distinzione tra arma propria ed arma impropria siccome non si riusciva a capirci niente la cassazione e i giudici hanno dovuto interpretare loro questa legge hanno dovuto dare un po' delle linee guida che però linee guida non sono perché la sentenza della cassazione non è vincolante per gli altri giudici e quindi io non posso andare sui forum non posso andare in giro a sventolare la sentenza della cassazione perché ha una valenza molto limitata potrebbe svegliarsi domani un giudice e cambiare completamente idea e quindi giudicarmi in un altro modo ecco non vi fidate mai di questi soggettoni che riportano le sentenze così a spiegare che è così si riporta una sentenza se volete come sto facendo io e l'ultima che vi riporto è la 36433 del 2021 che finalmente ribadisce ancora una volta che le caratteristiche costruttive del coltello non sono rilevanti se non è presente la punta e il doppio filo ecco siamo di nuovo di fronte comunque ad una sentenza della cassazione che io non posso utilizzare comunque per convincere ne sono un giudice o qualcuno posso solo sperare che anche il mio giudice sposi quella sentenza lì e che non abbia voglia di rimettersi lì a fare delle cose di fantasia ecco questo è molto importante dunque di nuovo tutti i commentoni riportanti varie cose andateci cauti quindi non vi fidate dei commenti che leggete sotto i video delle persone che vi dicono si può fare non si può fare io cerco di darvi un po' gli strumenti per andarvi ad informare da soli e spiegarvi il meccanismo che c'è dietro l'importante è capire la razio e il fatto che non vogliamo teste di cazzo con il coltello in giro questo penso che sia nell'interesse di tutti e il fatto che non essendo chiara la legge è sempre soggetta ad un minimo un'interpretazione che però ormai sembra essersi assestata su questa classificazione del pugnale come strumento dotato di punta e doppio filo quindi tutto il resto sono sconsiderati strumenti eccetto il balisong che ha avuto sfortuna spero che il quadro sia abbastanza chiaro perché adesso dobbiamo andare nel dettaglio e dobbiamo cercare di capire che cos'è questo porto del coltello beh il porto di qualcosa questa è una definizione mutuata dalle discussioni sulle armi da fuoco dove è stato anche lì necessario fare interpretazione il porto ormai è almeno l'interpretazione davvero più rilevante è quando un oggetto è alla nostra immediata disponibilità in tasca nella borsa addosso nel cruscotto della macchina alcuni nell'abitacolo della macchina ritengono che questa sia una condizione di porto del coltello e il porto delle armi è soggetto ovviamente a licenza di trasporto delle armi questo lo sappiamo no? licenza di porto d'armi è chiaro il porto di un coltello è invece concesso fuori dalla propria abitazione attenzione non solo di un coltello il porto di tutti quegli strumenti che sono anche particolarmente comodi per offendere le altre persone è concesso in tutti i casi dove è presente un giustificato motivo il trasporto invece è consentito anche quello previo giustificato motivo che significa il trasporto e il porto perché c'è questa differenza? beh è ovvio che se io giro per strada con un coltello in tasca in una città potrei avere delle bruttissime intenzioni se però il coltello è riposto nella sua confezione nello zainetto perché sto andando a trovare un altro amico appassionato e voglio mostrarglielo è tutta un'altra storia no? questo è importante se mi sto recando a fare un'escursione nel tragitto che ho da casa all'attacco del sentiero a dove lascio la macchina il coltello non ha nessuna ragione di essere nell'abitacolo della macchina si configurerebbe il porto del coltello e questo è vietato cioè vietato sto in macchina mi fermano con un coltello che diavolo gli dico se ho il coltello nel croscotto non ha un motivo anzi è sempre considerato abbastanza pericoloso anzi è sempre perseguito ok? abbastanza proprio perché la storia ci insegna che le migliori teste di cazzo hanno il coltello nel croscotto e allora questo lo sanno le forze dell'ordine questo lo sa il legislatore questo lo sa il giudice che fa l'interpretazione non vogliamo che la gente giri con il coltello nel croscotto ma se sto andando a pesca se sto andando dal rotino ad un raduno io vado spesso ai raduni in aeroporto e ho viaggiato ultimamente per un servizio che abbiamo fatto sull'Etna bellissimo a Catania ho viaggiato con una valigia piena di coltelli cosa avrebbero potuto dirmi nella mia valigia piena di coltelli nulla sto trasportando qualcosa in una valigia chiusa con un lucchetto nelle loro confezioni se però uno di quei coltelli per sbaglio o per qualche motivo l'avessi tenuto in tasca fino al controllo e l'avrebbero trovato in tasca come giustifico quell'azione lì non ho alcuna giustificazione anche perché sia chiaro dire me lo so scordato non vale purtroppo è così ecco il trasporto va particolarmente curato perché i coltelli ci servono in escursione ci servono nelle nostre attività non abbiate paura di avere un coltello con voi non c'è nessun motivo se devo portare un coltello in escursione voglio fare camping voglio fare il mio raduno con gli amici spaccare cioppare tutto quanto avrò bisogno di un coltello lo voglio uno due tre penso all'amico Dario Trifelli che viene ai raduni con la sua valigia dispositiva di tutti i coltelli che ha cosa devono dire ad uno che fa il coltellinaio e porta i suoi coltelli in giro niente purché siano trasportati purtroppo in Italia questo verbo porto fuori di casa qualcosa ecco si dice spesso queste poi sono le idiozie che ti fanno pure un po' infastidire si dice spesso un pugnale non lo puoi portare fuori di casa ok? in senso stretto non puoi portarlo ok? non puoi averlo addosso ma se io mi devo recare in armeria perché lo voglio vendere quel pugnale per esempio o c'è una mostra dove quel pugnale lo devo esporre e ho anche magari un nulla osta per fare questo e io lo posso tranquillamente trasportare così come la mia pistola quando vado in poligono non la posso portare la pistola il porto della pistola è vietato a meno me che non ho una licenza di porto della pistola quindi io non posso prendere la borsa della pistola mettere la subsedile del passeggero e andare quello è vietato ma il trasporto è necessario se no che faccio ci sparo in casa ecco non siamo idioti quando interpretiamo la legge cerchiamo di capire la razio di capire com'è fatta e di capire come comportarci il trasporto come faccio spesso io durante le mie trekking le attività e le escursioni in macchina nel bagagliaio in una borsa lì non ho nessun tipo di problema e dovessero fermare e dovessero anche decidere di perquisirmi la macchina non so per quale motivo poi vedremo i casi di perquisizione ma dovessero trovare di invenire questo coltello è chiaro che sto andando a fare un'escursione anche perché tra poco vedremo c'è tutto un corredo di attrezzatura insieme al coltello quindi mi raccomando in qualsiasi caso il vostro coltello vi sembra troppo disponibile all'uso state sbagliando qualcosa state rischiando parecchio perché invece di essere un trasporto diventa un porto e questo vi causa dei problemi pure grossi proprio perché se sto viaggiando su un treno non mi piace che una persona abbia nelle pronte disponibilità un coltello tuttavia se c'è un camion di boy scout che sta facendo una traversata dell'Italia per andare a fare un raduno o qualcosa state pur sicuri che in ognuno di quegli zaini ci sarà un coltello ed è giusto così e non c'è nessun problema in questo l'importante è che si configuri il trasporto e non il porto quindi qualsiasi ecco qui poi dipende anche molto dalla zona che dovete frequentare quando mi recco in armeria con la mia pistola per fare degli aggiustamenti o con le mie armi tengo sempre anche i lucchetti sulle borse proprio per condire ancora meglio l'idea del attenzione questo è un trasporto armi scariche eccetera quando vado a fare le escursioni i miei coltelli viaggiano dietro insieme dell'equipaggiamento nel bagagliaio perché alcune sentenze hanno anche asserito che è tutto quello che nell'abitacolo viene considerato porto e quindi ci si trova con il paradosso che se ce l'ho in fondo allo zaino ma sul sedile posteriore potrebbero contestarmi il porto del coltello poi io dovrò dimostrare che non è così e che è santo Dio per prendere quel coltello devo tirare fuori tutta la roba fermare la macchina e non è affatto pronto all'uso però lo devo dimostrare ed è abbastanza seccante quindi quando siamo più chiari possibili nelle nostre intenzioni ci pensiamo un po' prima sappiamo che trasportare i coltelli è possibile e lo facciamo in questo modo se devo prendere un mezzo pubblico posso tranquillamente trasportare i miei coltelli ma attenzione ancora di più ad imballarli in un modo che non lasciano il minimo dubbio sulla destinazione ok ad esempio io per qualche anno della mia vita ho fatto il barman e questo mi obbligava vabbè mi obbligava mi faceva comodo avere il mio set di coltelli come può essere per uno chef cambiando bar cambiando luogo di lavoro molto spesso io giravo con il mio set di coltelli ovviamente era ben riposto nella sua custodia è tutto ben sistemato nel borsone e quindi se mi avessero fermato avrei potuto dimostrare che quei coltelli erano con me in funzione di trasporto dei coltelli eccetera eccetera e ci siamo finalmente si era intravisto un po' questo tema sono sicuro che molti di voi lo stanno già aspettando il giustificato motivo che cos'è questo giustificato motivo vi voglio mettere in guardia su una cosa non viviamo in un mondo di stupidi cercare il giustificato motivo che vi permette di portare sempre con voi il coltello non è facile è rischioso e spesso non funziona il giustificato motivo esiste proprio per mitigare il porto abusivo di questi coltelli il porto atto ad offendere quindi per limitarlo un po' è spesso applicato in condizioni di fermo in condizioni di fermo con altri crimini eccetera anche ovviamente ad altri oggetti rispetto al coltello viene applicato ad esempio agli oggetti atti a scassinare particolarmente utili per scassinare Praibar Leverini Grimaldelli il coltello come tanti altri oggetti è attenzionato dalle forze dell'ordine vediamo un po' cosa è questo giustificato motivo beh a chi dobbiamo fornirlo innanzitutto quando dobbiamo esibire il giustificato motivo le prime persone a cui dobbiamo esibire questo giustificato motivo sono le forze dell'ordine che stanno effettuando il controllo eventuale e quindi se mi ferma qualcuno se ti ferma attenti calmi calmi quanta gente avete visto perquisire voi per strada normalmente così ci sono motivi seri che portano ad un controllo ok però se io sono stato segnalato perché ero vestito come Rambo con il mio plate carrier il coltellone e allora arriva la pattuglia da forestare che mi deve controllare e in quel momento devo fornire un giustificato motivo voglio riportarvi una sentenza importantissima la 37277 del 2018 che spiega una cosa che già si sapeva effettivamente il motivo che fornite in prima battuta alle forze dell'ordine che operano il controllo è quello che vale di più tutto quello che potrete mettere insieme con il vostro avvocato raccontare poi in sede di processo vale molto di meno ok quindi mi raccomando quando avete un coltello addosso sappiate già da subito qual è il vostro giustificato motivo è quello dovete raccontare alle forze dell'ordine nell'atto pratico se ad un controllo vengo fermato e mi chiedo un giustificato motivo è questo è valido non succede niente cioè non è che perché io ho un coltello vengo automaticamente portato e sequestrato il coltello vengo automaticamente schedato automaticamente finisco a processo è denunciato non è così la realtà dei fatti è che se quel motivo giustifica effettivamente il coltello lì per lì e l'ha detto e con la testa sulle spalle finisce lì ci si saluta e ci si dà il buongiorno e si va avanti no? non è quello il problema il problema nasce in tutti quei casi in cui il giustificato motivo cerchiamo di inventarlo sul momento cerchiamo di fantasticare di intortare la questione quelli si scazzano ovviamente e allora si denunciano dovrai rispiegarlo poi al giudice e cominciano le peripezie giudiziarie però non abbiate il terrore del controllo se in testa avete un buon giustificato motivo già per cui avete un coltello addosso beh esibite quello non bisogna avere paura del sistema giudiziario non funziona così non si può vivere in un paese dove uno ha paura del proprio sistema giudiziario sono dei guai sì sono dei bei fastidi sì sono delle spese però qual è la spesa di avere bisogno di un coltello e non averlo portato per paura di un controllo che non è mai avvenuto e vediamoli questi controlli cioè qual è una situazione in cui avviene il controllo e la perquisizione dell'individuo perché poi ecco se io sono talmente scemo da girare con il cabar qui in una strada in un parco pubblico vengo segnalato non c'è neanche bisogno della perquisizione sta qui il coltello e poi sì che ci sarà una perquisizione ma quello che non mi piace è che sul web continuano a dire se ti fermano e se ti controllano noi non viviamo in uno stato di polizia ok noi viviamo in uno stato democratico dove un agente può eseguire una perquisizione per tre motivi importanti uno è ovviamente il mandato del giudice è lì se c'è un mandato del giudice avviene una perquisizione ci si fa assistere dal proprio avvocato eccetera ma c'è un assolutamente l'altra ragione per cui può avvenire una perquisizione dell'individuo è quando c'è una flagranza di reato ti becco che stai aprendo la porta di qualcuno no magari ti sei fatto tre quattro appartamenti nello stesso palazzo è ovvio che c'è una perquisizione ti becco che stai spacciando delle sostanze stupefacenti e ovviamente c'è una perquisizione ho un sospetto fondato ma il sospetto deve essere fondato quanta gente avete visto voi girare con il suo zaino per il trekking nei paesi normali nei borghi venire affermata da una pattuglia è perquisita ma di che stiamo parlando chi ve le mette in testa queste cose che cosa è successo dentro di voi l'altro caso invece è il terzo caso che autorizza le autorità ad effettuare una perquisizione è quello forse più interessante per noi perché sono quei famosi casi eccezionali come terrorismo traffico di stupefacenti armi eccetera vi faccio qualche esempio ecco l'ingresso dello stadio ed è una perquisizione può avvenire se c'è una motivazione importante anzi vengono controllati forse non vengono tutti perquisiti ora è parecchio che non ci vado allo stadio ma vengono comunque controllati attentamente gli oggetti che vengono inseriti nello stadio vengono portati allo stesso tempo in caso di terrorismo se c'è un problema grave bisogna che ne so lasciare un mezzo pubblico è capace che lì ci saranno delle perquisizioni ma anche le manifestazioni ve lo dicevo all'inizio e attenzione perché con l'outdoor tutto questo non ha molto a che vedere no perché parliamo di ambiente urbano dove i controlli sono più serrati in ambiente outdoor c'è un caso molto interessante che va secondo me spiegato ed è quello del contrasto delle attività dei piromani degli incendi boschivi quindi se mi beccano in una zona io sono un atteggiamento particolare che sto lì che magari provo pure l'acciarino eccetera una perquisizione può scattare assolutamente quindi questi sono i casi ma non è che vengo fermato in montagna e perquisito dove vivete per quale motivo può succedere che esponiamo questi coltelli in maniera troppo vistosa e che quindi andiamo ad urtare la sensibilità degli altri frequentatori della montagna ve lo dicevo nell'altra puntata in questo caso può scattare un controllo ed in questo caso bisognerebbe evitare sicuramente di mostrarli ok è sempre buono avere una certa discrezione dei coltelli ma non solo per i controlli proprio perché nell'incontrare un'altra persona una famiglia avere questo coltello in vista beh mette sempre un po' di disagio e sinceramente non ce n'è bisogno no? è abbastanza gratuito quindi il coltello si può tranquillamente coprire con una camicia si può portare in maniera orizzontale si può portare in tasca con una ulticlip si può portare nello zaino se è un coltellone di quelli giganti in questo modo evitiamo di urtare la sensibilità degli altri che ogni tanto può sfociare anche in una denuncia perché c'è un tizio che è vestito militare con l'elmetto è il coltello della caviglia di Rambo e giustamente questo può restare dei sospetti ora cosa dovrò fare se la mia giustificazione non ha convinto le forze degli ordine innanzitutto loro dovranno redare un verbale e in questo verbale io devo pretendere questo è molto importante devo pretendere che le mie motivazioni siano riportate in maniera chiara e che venga elencato tutto l'equipaggiamento che avevo addosso questo è davvero utile poi in sede di processo perché io sto facendo la mia escursione in montagna hanno deciso di fermarmi l'hanno visto mi hanno perquisito hanno trovato un coltello mi chiedono il motivo io tra poco spiegherò quali sono i motivi plausibili cosa devono scrivere nel verbale quello che dico cioè il motivo per cui ho quel coltello e tutta l'attrezzatura a cosa serve questo serve a dare contesto serve a dare contesto perché poi questo pacchetto di informazioni lo presenteranno ad un giudice e questo giudice io come il mio avvocato e tutti quanti il caravanza e il raglio faremo un rituale per cui il processo mi chiederanno il motivo per cui avevo questo coltello mi chiederanno di nuovo io l'avrò già spiegato e potrò ribadirlo e potrò fare leva su tutti gli oggetti che avevo dai situazioni tipiche sto andando a pesca ma ho in macchina solo il coltello da sub non è plausibile però attenzione perché se io sto andando a pesca e in macchina ho tutta l'attrezzatura da sub ma mi denunciano solo il coltello e chi glielo dice al giudice poi che io avevo tutta quella roba da sub in macchina come faccio a dimostrarlo e allora ecco che se ti fermano ti denunciano per un coltello ti voglio denunciare per un coltello bisogna esigere che venga riportato tutto l'equipaggiamento disponibile in auto in questo modo potrò dimostrare più facilmente assai più facilmente perché avevo un coltello con me arrivo dal giudice primo grado di processo alla fine non ho convinto le forze dell'ordine e dovrò affrontare il mio primo processo primo magari primo processo penale ci sarà un giudice che riesaminerà tutto il caso e emetterà una sentenza questa sentenza se mi sta bene e ragazzi di sentenze che hanno assolto persone che portavano i coltelli e ce ne sono non è che siamo qui a dire sempre il terrorismo giudiziario e ci hanno tutti torto non si porta mai no è vero bisogna avere un avvocato è vero bisogna affrontare un processo però fatevi un'assicurazione legale se avete tutta questa paturnia nel processo se avete davvero la sensazione che vi può capitare fate un'assicurazione legale avete la vostra assicurazione il vostro legale e pagate con quella mi raccomando non scadiamo nel terrorismo giudiziario non scadiamo nel non affermare i nostri diritti perché abbiamo paura che ci può capitare qualcosa con la legge la legge è per noi la legge è e fa parte del nostro sistema la legge è parte di quello che noi viviamo quindi il giudice emetterà una sentenza se quella sentenza non ci convince non ci piace possiamo chiedere un secondo processo un secondo grado di giudizio e questo viene ripetuto il processo nel secondo grado di giudizio che emetterà un'altra sentenza o la stessa o la conferma o la modifica magari il secondo giudice nella corte d'appello ci dice che guarda tutto a posto avevi ragione tu se era sbagliato l'altro giudice e cose di questo tipo può succedere di tutto se però neanche questo giudice ci convince e soprattutto non ci convince l'interpretazione cioè ci viene magari attribuito il porto di un'arma e invece noi stavamo portando un coltello allora sì che le cose si fanno serie e bisogna andare in Cassazione in Cassazione non si chiederà più alla corte di Cassazione di valutare il fatto ma l'interpretazione della legge che è stata fatta e quello poi è l'ultimo grado lì ci può andare bene o andare male però è giusto che se dovesse capitarci una cosa del genere sappiamo anche combattere le nostre battaglie regali perché fa parte della vita del cittadino così come fa parte della vita del cittadino la possibilità di girare con un coltello in determinati luoghi e in determinate occasioni ok e su questo lo ripeto perché dobbiamo essere davvero precisi prima di andare a vedere i giustificati motivi plausibili e fantasiosi mi raccomando non fidatevi di quello che vi dicono su internet compreso me nessuno su internet vi può dire come andranno le cose ogni processo è a sé ok anche se c'è stato ieri un processo uguale al vostro nella vostra stessa situazione che è andato in un certo modo magari tragico il vostro potrebbe essere diverso quindi questo deve essere preciso scolpito in mente nessuno e io penso di non averlo fatto finora nessuno vi deve dare delle soluzioni vi può dare delle soluzioni vi può indicare come avverranno i fatti come si svilupperà il processo non lo sanno ok stanno mettendo insieme nozioni che hanno letto su internet su altri video magari il video dell'avvocato che non lo sa neanche lui un avvocato serio questo vi dirà non sappiamo come andranno le cose affinché non affrontiamo il nostro processo perché ogni situazione è a sé e capite da soli che c'è una bella differenza tra uno che porta un coltello incensurato e che magari sta facendo la sua escursione e un altro che magari è attenzionato dall'autorità di pubblica sicurezza con diversi reati di rapina alle spalle che gira con questo coltello in città vicino ai bancomat no c'è una gran bella differenza quindi il coltello è lo stesso il coltello è lo stesso ma cambia il contesto e quindi cambia il processo e cambia tutto ora vediamo nello specifico qualche esempio di giustificato motivo e fantasticherie ripeto non cercate questo giustificato motivo che vi autorizzerà sempre a portare il coltello alla cintura perché non esiste ok ci sono vari motivi e varie cose che possono o non possono convincere le autorità così come io vi dico che possono convincere le autorità o non possono allo stesso tempo non potrà nessuno dirvi che quello è un giustificato motivo no ad esempio l'attività del somozzatore che va a fare la sua escursione racconto alla pattuglia che nel bagagliaio c'è il mio coltello che hanno trovato il mio coltello e tutte le mie cose da somozzatore ma loro non mi credono perché sto magari in montagna e non c'è niente di cui immergermi e non mi credono e pensano che io voglia criminaleggiare con quel coltello e allora dovrò poi spiegarlo di nuovo al giudice eccetera quindi mi raccomando non esiste nessuno in grado di dirvi avvocati ma gli stessi giudici gli stessi giudici dovessimo parlare oggi con un giudice sicuramente vi direbbe che non può dirvi con certezza come andranno le cose o qual è un giustificato motivo si fanno degli esempi la verità è che se il giustificato motivo convince già gli agenti beh siete a posto e solitamente se un giustificato motivo è tale gli agenti restano convinti vi salutano e di nuovo a posto così se invece quel motivo lì non convince gli agenti non convince chi vi ha fermato e dovete andare poi a spiegarlo di nuovo dai vediamo qualche esempio che mi piaceva fare qualche cosa allora innanzitutto non è mai giustificato motivo l'illecito eh già quindi non potrò mai giustificare il porto di un coltello per commettere un illecito e l'illecito non è solo la rapina l'estorsione il danneggiamento degli altri persone no l'illecito è anche per esempio quello di andare a raccogliere i funghi senza il tesserino l'illecito è anche ad esempio quello di andare ovviamente a caccia senza il porto senza la licenza di caccia o di andare eventualmente a cioppare a fare legna ok in un posto dove non posso fare legna voglio mi fermano e racconto che voglio accendere un fuoco ma il fuoco magari è vietato in quel posto quindi non è un giustificato motivo non può essere un giustificato motivo un illecito e sarà comunque un problema poi sia l'illecito che il porto del coltello quindi mi raccomando portare un coltello ecco per esempio quello che si dice spesso si fa l'esempio scuola lo porto per sicurezza e difesa personale beh no non è mai un giustificato motivo la difesa personale a meno che non avete un porto d'armi per difesa personale è un'arma per la difesa personale per il resto non posso portare un coltello per difesa personale e non affidatevi neanche delle motivazioni generiche sono un collezionista mi piacciono i coltelli eccetera eccetera quello è difficile perché quello che vi domanderanno non è sono un collezionista è perché ce l'hai qui perché ci stai facendo il porto del coltello cioè se sei un collezionista e hai il coltello dietro nel bagagliaio e lo stai portando magari dalla rotina a farlo lucidare a farlo vedere ad un amico o all'amico armaiolo a venderlo quello che ti pare se lo stai facendo e puoi provare questa cosa qui tu sei a posto nessuno ti dirà niente vabbè nessuno ti dirà niente di nuovo se convinci gli agenti altrimenti si arriva al processo se invece ti fermano e dici sono un collezionista ma il coltello ce l'hai in tasca ebbè quello amico mio non funzionerà mai come giustificato motivo non basta essere un collezionista questo è stato detto più e più volte è anche abbastanza logico sono un collezionista e quindi giri con un coltello no non va bene così ma vediamo qualche caso un po' più strutturato dicevamo ad esempio viene fermato un individuo che ha in sua borsa un apparato radioamatoriale del filo e un multitool gli viene contestato la presenza del multitool e la gente ti chiede perché hai questo coltello e allora tu dovrai spiegare per esempio che sono un radioamatore un radioascoltatore e mi sto accingendo a montare un'antenna voglio montare un'antenna a filare e quindi il coltello mi serve per legare l'antenna per sistemarla e spellare il filo e collegarla ecco questo è un caso molto verosimile potrebbero dirti qualcosa sì possono sempre sempre dichiararsi non convinti dal tuo giustificato motivo e rimandarti a spiegarlo al giudice ma in quel caso gli chiederemo alla pattuglia chiederemo di mettere a verbale tutto quello che è nella borsa quindi il coltello il cacciavite il nastro le pinze quello che ci serve l'apparato radioamatoriale non avrebbe senso altrimenti raccontare questa cosa qui un altro caso è per esempio quello di un artista che si trova a un coltellino per affilare le sue matite con sé il suo set ha il suo coltellino affila le matite e il suo album di disegni lo fermano in piazza di Spagna che sta disegnando e gli chiedono come mai ha quel coltello allora lui potrà dire mi piace disegnare non devi essere un artista mi piace disegnare questo coltello mi serve per fare la punta alle matite la dimensione del coltello la dimensione la forma del coltello è congrua con il motivo che ha esposto se la pattuglia si convince di questa spiegazione siamo a posto altrimenti dovremmo rispiegarla di nuovo al giudice ma la dimensione del coltello e tutti gli strumenti che ha e l'attività che sta facendo rendono plausibile quella spiegazione lì quel giustificato motivo per questo le fattezze del coltello non sono proprio indifferenti ok quando scelgo un coltello di una certa dimensione di una certa forma di una certa dotazione di accessori beh è perché voglio farne un certo uso che sarà giustificato poi eventualmente alle forze dell'ordine altra situazione mi fermano nel kit del mio primo soccorso in automobile e ha presente anche un bisturi ok è un coltello di fatto è un coltello il bisturi anzi è fatto apposta per incidere le altre persone e quindi come lo giustifico beh fa parte della mia dotazione di primo soccorso ho fatto dei corsi ho un kit di primo soccorso sempre pronto in automobile questi sono tutti gli accessori se si convince la pattuglia siamo a posto vediamo all'escursionismo ti fermano e ti chiedono perché hai il coltello alla cintura la mia spiegazione la mia proprio la mia è quella che porto il coltello insieme a tanti altri strumenti di sicurezza che fanno parte della cultura che ho acquisito nei corsi di formazione sulla sopravvivenza e di quello che dice la letteratura al riguardo quindi il coltello che ho congruo con un uso di sopravvivenza di montagna è un coltello che magari ecco è disegnato da Daniele D'Alcanto chi meglio di lui è un giustificato motivo? beh sì probabilmente sì non lo so se gli agenti sono convinti della mia spiegazione data sempre ragazzi con il massimo della disponibilità e il massimo della della gentilezza senza però scadere nel perdere la dignità no semplicemente ti do una spiegazione da cittadino libero me la chiedi te la devo dare te la do se gli agenti sono convinti della mia spiegazione e vedono tutta la mia dotazione di sicurezza che sta addosso a me non nello zaino perché sono stati persi dagli zaini nelle avventure e quindi io non voglio correre il rischio di perdere lo zaino ho un segnalatore GPS ho una torcia ho il mio cordino la copertura eccetera tutto quello che si porta che sta addosso a me compreso il coltello funziona non funziona questo giustificato motivo e chi diavolo può dirvelo nessuno vi può dire che non funziona lì fuori tutti i suoi qui sotto scriveranno milioni di espertoni mi può dire che funziona non funziona anche se qualche volta ha funzionato anche se qualche volta non ha funzionato io sto solo condividendo il mio giustificato motivo è un motivo che mi porta ad avere un coltello alla cintura ok quindi questo è quello che fare io ho alle spalle la conoscenza per l'uso del coltello o alle spalle la conoscenza per l'uso di tutti gli strumenti di sicurezza faccio delle avventure sono da solo faccio le mie avventure devo avere un coltello questa è come la penso io non è importante che la pensino come me anche chi mi ferma o i giudici o che sia per il momento devo pensarla io così poi se devo spiegare le motivazioni lo farò un'altra motivazione potrebbe essere quella che mi fermano magari con un coltello un po' più grande e vi domandano come mai state portando un coltello così grande e io posso spiegare che fa parte del mio equipaggiamento per preparare una spedizione sto preparando una spedizione posso dimostrarlo voglio andare a fare una spedizione e devo testare tutto il mio equipaggiamento con il caldo con il sudore con la polvere compreso il coltello questa cosa convince gli agenti che ti fermano sì a posto ciao non li convince bene mettiamo a verbale tutto quello che ho detto e tutto l'equipaggiamento che sto testando si va davanti al giudice con la spedizione che stiamo preparando i documenti e tutto il resto che non possiamo avere lì al momento anche se ogni tanto basta far vedere una foto guarda sto preparando questa dove te ne vai e finisce tutto lì non esageriamo neanche con le paure giudiziarie che se no non facciamo niente non ci godiamo neanche un po' del nostro hobby se avete un giustificato motivo serio varrà sempre un'altra possibilità per esempio ti fermano con un coltello particolare la foggia un po' particolare ti domandano perché hai quel tipo di coltello no perché stai portando quel tipo di coltello è una possibile risposta è voglio fare il designer di coltelli voglio diventare un progettista di coltelli quindi sto sperimentando il porto di questo strumento e l'utilizzo di questo strumento con la vegetazione morta o con il bastoncino che mi sono portato da casa no e questa cosa devo farla camminando per le montagne per sentire addosso com'è lo strumento e capire se effettivamente sto avendo delle buone idee immaginiamo per esempio l'amico Dario Dario Trifelli che se ne va in giro con un suo coltellone ha la cintura per i boschi viene fermato lui li produce i coltelli e potrà sempre dire che sta provando il porto di quel coltello nell'ambiente boschivo poi gli agenti possono credergli oppure no il giudice può credergli oppure no una cosa è certa non ve lo posso dire io che questo è un giustificato motivo non ve lo può dire nessuno neanche che non sia un giustificato motivo un'altra situazione potrebbe capitare anche ad uno youtuber che fa un influencer uno di questi che girano con i coltelli per i boschi a fare gli instagramer bene lì potrebbe essere una giustificazione il fatto che state registrando dei video che state facendo delle foto che è un oggetto di posa che è uno strumento di posa che si serve fare queste foto questi video con oggetti tra cui il coltello per il vostro profilo social che è il vostro lavoro magari è un secondo lavoro che è una vostra passione perché no allora lì di nuovo se gli agenti vi credono state a posto altrimenti dovete rispiegare questa cosa ai giudici vi fate riprendere tutti gli oggetti vi fate scrivere tutti gli oggetti che avete con voi tra cui ci saranno ovviamente se siete per fare delle foto un treppiedi una fotocamera un'attrezzatura fotografica no? qualcosina e magari avete già un profilo avviato con questo genere di foto ed ecco che è un giustificato motivo plausibile poi potrebbe passare o potrebbe non passare ma di nuovo non ve lo posso dire io né nessun altro un altro caso potrebbe essere il cittadino che viene fermato e perquisito ma qui davvero io non so dove vi passano queste cose però è fermato e perquisito qualcuno e gli viene trovato addosso un temperino e un pezzetto di legno e allora posso tranquillamente dire che nella pausa pranzo del lavoro io me ne vado a intagliare al parco vado al parco mangio un panino e poi mi intaglio i pezzetti di legno perché è una mia passione l'intaglio ed ecco perché ho un coltello congruo a quel tipo di operazione che dire se il coltello non è congruo a quel tipo di operazione cioè può anche essere può rendere più difficile la spiegazione non vi condanna automaticamente a nulla io posso sempre spiegare che ho preso un coltello grande per vedere se lavora bene con oggetti piccoli questo può andare bene o non può andare bene bisogna vedere se convinco le persone che mi fermano tutto qua ragazzi tutto qua siate a posto con voi stessi siate a posto con la coscienza siate a posto nel capire la razio e nel non essere la testa di cazzo che gira col coltello e godetevi la vostra passione ho un coltello per i sigari posso tagliare i sigari sono un fumatore di sigari toscani li taglio a metà con questo coltello perché questo tipo di coltello perché è particolarmente affilato ha una lama che tiene molto bene in elbax tiene molto bene il filo e mi taglia bene i sigari questi sono i miei sigari questo è l'accendino questo è il coltello e ancora ho in tasca della carne secca della salsiccia e per non rovinarmi i denti mi metto lì prendo il coltello che ho nell'altra tasca taglio un pezzetto mentre cammino e mangio ok questa cosa vi può essere contestata? sì oppure no oppure no non lo sappiamo è un plausibile giustificato motivo? beh sì è plausibile devo porzionare il cibo così come è stato più volte contestato ecco in parecchi processi l'utilizzo del coltello per porzionare la sostanza stupefacente e quindi quando veniva perquisito perché poi succede così spesso l'abbinamento con la sostanza stupefacente veniva ritrovata la sostanza stupefacente e il magistrato contestava anche il porto abusivo del coltello il porto dell'arma impropria e l'avvocato ovviamente faceva presente che invece il motivo era giustificato dal taglio della sostanza stupefacente che l'utente faceva che il cliente faceva l'imputato doveva fare con quel coltello ti fermano con il coltello al fianco e una corda stavo facendo un fuorisentiero mi piace calarmi in corda doppia su alcuni pendii più dolci eccetera e ovviamente dove c'è la corda c'è anche il coltello ci deve essere anche il coltello il coltello è congruo all'uso che ne devo fare e stiamo a posto forse ecco che vedete il meccanismo a quello che dovete capire non esiste una soluzione totale per il porto del coltello non esiste il trucchetto all'italiana che state cercando probabilmente in questo video per essere sempre nel giusto con il coltello in tasca non esiste esistono però dei meccanismi che servono a proteggere tutti noi dall'uso dal giro indiscriminato di lame e che sono sostanzialmente utilizzati per perseguire chi porta il coltello in crimini sempre diversi di solito viene trovato il coltello addosso a chi? addosso al ladro al rapinatore al trafficante di stupefacenti e di fatto tutte le sentenze che andiamo a prendere sono almeno la nostra grande maggioranza legate ad altri crimini la persona che viene perquisita è una che stava criminaleggiando o che si apprestava a criminaleggiare o con una storia criminale alle spalle sono pochissimi i casi in cui la brava persona viene perquisita o viene trovata ad esempio è successo qualche volta che uno si è dimenticato il temperino in borsa e viene fermato al tribunale dove viene fatta la perquisizione e la denuncia perché stava entrando in un tribunale però mi raccomando take it easy prendiamocela con calma stiamo attenti alle lame che ci girano intorno quando ci servono le dobbiamo avere ecco pensiamo ad esempio ad un amico youtuber che viene fermato nel bosco con il suo coltello nello zaino già viene fermato nel bosco pure questa cosa qui però vi piace tanto questa idea se ti fermano eh sì se ti fermano se ti fermano nel bosco ti perquisiscono ti trovano il coltellone gigante bello grosso nello zaino qual è il giustificato motivo dell'amico youtuber è quello che sta andando a fare un video farò un video sto andando a fare un video su come si usa un coltello in sicurezza e lo faccio nello sfondo del bosco un'altra situazione che potrebbe succedere è che io sono sull'argine di un fiume con una bella pietra presa lì e il mio coltellone gigante al che verranno i controlli questi controlli che arrivano col drone perché se non si spiega arriveranno e mi chiederanno come mai ho quel coltello ok io potrò spiegare che ho un coltello così grande perché sto imparando ad affilarlo sul campo con la pietra di fiume perché devo dargli il filo anche nelle prossime spedizioni e avventure è un giustificato motivo beh questo di nuovo non posso dirvelo io ed è bella questa cosa mi fa impazzire perché qui sotto spunteranno migliaia di giustificati motivi blindati quanto anche il giustificato motivo che vi sembra più corretto possibile può esservi contestato credete in quello che state dicendo siate sicuri di essere nel giusto e presentate le vostre ragioni non adducete giustificati motivi generici mi serve perché potrebbe servirmi non basta vi potrebbe dare dei guai in qualsiasi giustificato motivo generico vi potrebbe dare dei guai mi piace il coltello mi fa sentire sicuro potrebbe darvi dei guai preparatevi prima una spiegazione esaustiva del perché avete con voi questo benedetto coltello e godetevi le vostre escursioni bene puntatona lunghissima lo so ma dovevamo parlare di tutte queste cose dovevamo sfatare alcuni miti e bisognava cercare di fare un po' di chiarezza che poi chiarezza vera non è me ne rendo conto che parecchi stanno cercando il loro modo di vivere la passione e il modo di vivere la vostra passione è questo conoscere il sistema giuridico italiano conoscere come vengono recepite le normative sull'apporto dei coltelli come vengono organizzate le cose riguardo i coltelli e poi prepararsi e godere delle proprie escursioni godere delle proprie passioni non abbiate paura di portare con voi il coltello dove pensate che vi potrebbe servire se vi potrebbe servire il coltello se vi serve un coltello avete già in testa qualche giustificato motivo ragazzi potrebbe non essere condiviso da chi vi ferma mi devono fermare e non facciamo finta che sia una cosa facile non facciamo finta che essere fermati con i coltelli è una cosa dell'ordine del giorno usate un po' di discrezione i coltelli non mostriamoli troppo in escursione non portiamoli troppo esposti per il semplice fatto di non andare a ledere la sensibilità degli altri ok non vogliamo mettere in disagio una famiglia che magari sta lì con i bimbi e arriviamo noi con il coltellone sulla coscia perché fa sempre un po' impressione però se vi trovate in un campeggio in un posto e vi piace lavorare il legnetto fare le vostre cosine vivere la vostra passione beh non abbiate paura non aggiungiamo delle difficoltà che non esistono se avete deciso che vi serve un coltello è perché vi serve probabilmente siate solo in grado di spiegarlo a chi eventualmente vi ferma finché il coltello rimane fuori dalla vista rimane discreto sfido io a farvi perquisire intenuta da trekking perché avete un coltello e sfido anche che chi poi vi perquisisce non accetti la spiegazione della dotazione di sicurezza del coltello quindi mi raccomando non creiamo dei mostri giuridici non prendiamo le deviazioni che ci sono pure state nella storia delle sentenze della Cassazione come il modo in cui funzionano le cose è successo potrebbe succedere ancora ma non è così che funziona o che deve funzionare in generale il sistema giuridico cerca di farci vivere in un mondo migliore quindi fate soltanto attenzione preparatevi bene studiatevi un po' le cose le vostre cose e vivete serenamente i vostri coltelli per il momento è tutto il Backpackocast finisce qui ci vediamo alla prossima puntata ciao ragazzi